Bene, eccoci tornati di nuovo in studio, sempre per parlare della grave obesità e della chirurgia bariatrica. Abbiamo salutato il dottor Daniele Fumelli e ci ha raggiunto la dottoressa Marina Taos, dirigente medico, unità operativa, nutrizione e clinica, ospedali riuniti di Ancona. Buonasera dottoressa, ecco ma ci vuole dire subito qual è l'approccio terapeutico con il grande obeso? Il grande obeso dobbiamo innanzitutto pensare che è un paziente reduce da numerosi insuccessi terapeutici che ha una sfiducia sia nei confronti delle diete che nei confronti anche di noi professionisti e quindi nello stesso tempo è anche alla ricerca di una qualcosa, di una terapia miracolosa che in poco tempo possa risolvere i problemi che lo hanno afflitto già da diverso tempo. Il paziente affetto da grave obesità è comunque un paziente che da tempo ha questo problema, quindi un'obesità inveterata e quando noi lo riceviamo la prima volta è opportuno invece cercare di catturare la sua fiducia e la sua attenzione in modo tale da creare questa alleanza terapeutica e questo rapporto, allacciare un rapporto che sia efficace nel cercare appunto di rieducarlo dal punto di vista del suo comportamento alimentare. E questa è la prima cosa? E questa è la prima cosa, quindi il paziente sin dall'inizio deve essere appunto rimotivato, si parla proprio di spinta motivazionale, nello stesso tempo non dall'inizio dobbiamo proporre la chirurgia bariatrica come intervento risolutivo, ma anzi al contrario dobbiamo attendere diversi incontri proprio per vedere, per verificare che ci sia una reale motivazione, una reale convinzione di affidarsi il paziente a noi e al nostro gruppo e quindi intraprende il paziente questo percorso, come hanno anticipato appunto prima sia il professor Nicolai che il dottor Fumelli, caratterizzata appunto da una valutazione dello stato nutrizionale del paziente, una valutazione del suo aspetto psicologico e proprio per cercare di vedere appunto se ci sono eventuali patologie, influenze diciamo psicologiche che hanno poi col tempo influenzato negativamente il suo comportamento alimentare e poi il paziente può intraprendere nei casi di gravi obesità, quindi parliamo di 180-190 kg, è opportuno anche iniziare un trattamento dietetico atto a ridurre il rischio anestesiologico e quindi che induca un calo ponderale importante. Mi riferisco proprio alle diete cosiddette chetogeniche che sono diete caratterizzate da un bassissimo apporto di glucidi e caratterizzato da un aumento del contenuto, quindi diete iperproteiche conosciute e che determinano un calo ponderale perché appunto inducono una lipolisi, cioè una riduzione, una distruzione delle cellule adipose proprio per cercare appunto l'organismo di produrre quella energia di cui ha bisogno e che normalmente ricava dagli zuccheri che appunto con queste diete non non sono introdotti. Quindi vengono levati totalmente gli zuccheri? Sì, è una dieta drasticamente ipoglucidica, quindi il calo ponderale come avviene? Avviene perché c'è una lipolisi per la produzione appunto di molecole che servono poi per la formazione di zuccheri appunto da cui ricaviamo energia e nello stesso tempo la produzione di questi corpi chetonici che derivano dalla lisi, cioè dalla distruzione delle cellule adipose, che si formano in quantità tripla rispetto ai valori normali nel partire dalla seconda terza giornata di dieta chetogenica, agiscono anche a livello dell'area che controlla la sazietà e quindi in questo modo danno gli input che riducono diciamo la sensazione di fame anzi inducono una sazietà per un periodo più protratto e quindi questa è l'efficacia terapeutica. È un po' anche la dieta che è stata fatta diciamo la dieta anche con il sondino, anche la nutrizione che viene fatta con il sondino nei grandi obesi per indurre velocemente un calo pronderale significativo è una dieta iperproteica e drasticamente ipoglucidica. Oltre questo diciamo che un approccio non chirurgico e che va oltre la dieta nei pazienti che non sono così tanto complianti, così tanto che aderiscono appunto alla dieta è indicato il pallone intragastrico di cui appunto nella nostra equipa ci occupiamo, in particolare il professore che posiziona appunto questi palloni intragastici possiamo dire di aver avuto degli ottimi risultati poiché serve anche per insegnare al paziente ad aderire in man mano in maniera corretta a questo nuovo programma nutrizionale. C'è anche un supporto psicologico? Assolutamente, nell'ambito di questo percorso cosiddetto, così definito appunto percorso diagnostico terapeutico assistenziale, come ho detto la valutazione psicologica pre e post operatoria è assolutamente indispensabile. Quindi c'è un psicologo comunque che segue questo paziente? Assolutamente, perché comunque è un cammino molto difficoltoso. La presa in carico è importante e soprattutto perché noi dall'inizio, avendo di fronte un paziente che già ha percorso diverse strade con diversi professionisti, spero diversi professionisti comunque sia, è opportuno che noi dall'inizio invece facciamo capire com'è diverso l'approccio un approccio multidisciplinare, integrato, dove tutti i professionisti parlano la stessa lingua e il paziente deve capire che deve completamente cambiare pagina e quindi ricominciare da capo e modificare man mano in maniera lenta, non immediata diciamo, ma in maniera lenta proprio per far capire al paziente quanto è importante cambiare il suo comportamento alimentare e quindi lo stile di vita. Stile di vita, bene. Ecco, professore, allora qui si parlava dei vari interventi chirurgici. Allora, iniziamo con l'ultimo tipo di intervento chirurgico che ha menzionato la dottoressa Taos. Ecco, il palloncino intragastrico. In quale caso viene utilizzato il palloncino intragastrico nel paziente? Inizialmente questo è un palloncino. È un palloncino che noi possiamo gonfiare con aria, con acqua. In linea di massima mettiamo dai 500 ml agli 800 ml. Esistono diversi tipi di palloni gastrici, quelli gonfiabili solo per la durata di sei mesi o quelli gonfiabili gradualmente. Quelli che si gonfiano gradualmente, cioè al secondo mese, al quinto mese, poi all'ottavo mese, sono palloni che in un primo momento danno meno disturbo, perché questo è un corpo estraneo, ha un effetto bezzorario a livello gastrico. C'è un corpo estraneo che induce il paziente nei primi giorni alla nausea, al vomito, al rigurgito gastrico, a un senso di malessere generale. Poi la cavità gastrica si adatta al pallone e il paziente tollera nel giro di 4-5 giorni abbastanza bene il pallone gastrico. Si intuisce, chiunque può intuire, che noi andiamo ad occupare una parte della cavità gastrica. La cavità gastrica è di solo occupata dal cibo, quindi è logico che il paziente che ha un pallone gastrico posizionato, gonfiato a 400 ml, 600 ml, 800 ml, avrà una capacità gastrica, diciamo, residua, inferiore al paziente normale, quindi anticiperà la fine del pasto. Quindi ha meno fame, diciamo. Ha sicuramente meno fame. Poi i primi palloni, il posizionamento era solo per sei mesi, adesso si parla di palloni addirittura per un anno, ma il pallone serve appunto per dare l'abbrivio al calo ponderale in cui i pazienti che hanno un sovrappeso di oltre sicuramente, perché è una spesa per la straordinarietà nazionale, oltre 20-25 kg. Il pallone dà questo abbrivio, dà questa, diciamo, maggior resistenza alla fame, oppure anticipa alla fine del pasto. Quindi dà un contributo, l'abbrivio, a quella dieta che poi il paziente dovrà sicuramente proseguire nell'arco della vita. Quel cambiamento di stile di vita che va fatto durante la permanenza del pallone a livello gastrico per 6, 7, 8, 9 mesi. E contemporaneamente, come diceva giustamente la dottoressa Taus, il paziente viene sottoposto a un approccio multidisciplinare. Quindi un colloquio con il dietologo, una formulazione di diete, c'è programmate e diete, diciamo, diverse a seconda del calo ponderale nel tempo, un colloquio con la dietista, un, diciamo, un programma di movimento, un programma di attività fisica, colloqui psicologici e anche un raccordo, un ricordo anamnestico di quello che sta introducendo che servirà a monitorare poi lo stile di vita, la dieta soprattutto. Quindi il paziente si sente più sazio, ma comunque non è che può mangiare quello che vuole, deve seguire una dieta, deve fare esercizio fisico, insomma, deve avere comunque un corretto stile di vita. Sicuramente il pallone è un aiuto, è un aiuto per incominciare un nuovo stile di vita, per quei pazienti che non ce la fanno, non solo, ma è anche un aiuto per quei pazienti che devono essere sottoposti a intervento chirurgico di tipo restrittivo o malassorbitivo per ridurre il rischio anestesiologico, perché se io posiziono o un sondino naso gastrico o un pallone gastrico prima dell'intervento, quindi porto il paziente da 180, 190, 200 kg a 160, 150, sicuramente avremo una maggior sicurezza sul tavolo operatorio. Invece, professor Nicolai, quando è che viene indicata la chirurgia bariatrica, ossia bendaggio, sleeve gastrectomy, bypass gastrico? Bene, a proposito del, noi abbiamo portato per rendere la cosa più facile a chi sta ascoltando uno stomaco, questo è l'esofago, questo è lo stomaco e questo è il duodeno, questo è lo stomaco, grande curva, piccola curva, questo è un bendaggio gastrico. Il bendaggio gastrico lo posizioniamo proprio all'altezza della giunzione esofago-gastrica. Come potete ben vedere ci sono dei piccoli paraurti dentro che sono gonfiabili, questo è il reservoir, il serbatoio sottocute posizionato, pungendo questo serbatoio, questo serbatoio noi introduciamo del liquido, della fisiologica per cui stringiamo il bendaggio. E quando è che calibriamo, stringiamo il bendaggio? A seconda del calo pondrale del paziente. Noi potremmo posizionare il bendaggio, lasciare il bendaggio qui per un anno, un anno e mezzo se il paziente ha acquisito quelle nozioni, quello stile di vita che noi cerchiamo di impartire al paziente. Se il paziente ci segue e scende di peso, il bendaggio gastrico, il posizionamento di questo bendaggio induce senso di sazietà, non c'è bisogno di calibrarlo, di stringerlo ulteriormente. Lo stringiamo nel momento in cui il paziente non scende i chili che deve scendere, ha più fame del dovuto e non riesce a seguire la dieta. A quel punto noi incominciamo con una calibrazione. Questo è un bendaggio, l'ultimo che è uscito un paio di anni fa, due o tre anni fa, è un bendaggio che si calibra da 1 a 14 cc. Quindi abbiamo 14 chance di calibrazione. Queste chance vengono adottate in relazione al calo pondrale del paziente, ma non solo, in relazione anche alle condizioni cliniche, allo stato psicologico. C'è un momento che il paziente non riesce per problemi personali o interpersonali a scendere di peso, non andiamo ad aggravare la situazione psicologica del paziente con una calibrazione serrata. Una calibrazione che va ad inficiare la qualità di vita del paziente, non lo faremo mai. Quindi la calibrazione va concordata col paziente in relazione, come ho già detto e ripeto, alle condizioni psicologiche, alle condizioni cliniche e al calo pondrale. Bene. Professor Nicolai, ma quali sono gli interventi chirurgici più utilizzati nel vostro centro? Noi più che ci interessiamo di chirurgia restrittiva. La chirurgia è composta da due tipologie di interventi. La maggior parte delle chirurgie di interventi sono due interventi solamente oggi. Il bendaggio gastrico e la slive gastretomi. Il bendaggio gastrico è questo. Mettiamo questo anello tra l'esofo, come ho già detto, e lo stomaco, e andiamo a calibrarlo, quindi riduciamo la quantità di cibo che viene introdotto in stomaco. La slive gastretomi invece è una cucitura, e nella slive gastretomi andiamo a cambiare l'anatomia topografica dell'intestino. Questo è un intervento, come si può intuire, irreversibile. Non va l'intervento, il paziente non ha seguito, io non vado a cambiare l'anatomia del paziente. Tolgo il bendaggio, il paziente è nelle stesse condizioni di prima. Nella slive gastretomi invece io faccio una cucitura dall'inizio, dalla parte alta dello stomaco, fino al duodeno. Quindi vado a ridurre circa a meno della metà la capacità gastrica. Quindi tubolizzo lo stomaco. Quest'altra parte, parte del fondo del corpo e dell'antogastrico, il paziente non ce l'ha più. Quindi è un intervento che non è reversibile. Quindi è un intervento che, in base alla nostra esperienza, va riservato a quei pazienti che non vogliono collaborare tanto a un nuovo stile di vita. Se il paziente collabora, se segue, il bendaggio gastrico sicuramente favorisce un'interazione medico-paziente. Quindi se il paziente ha voglia di collaborare, il bendaggio gastrico trova soddisfazione. Nella slive gastretomi noi togliamo una parte dello stomaco. Quindi lo stomaco non si può dilatare e è obbligato a fare la dieta per forza. Ecco, quindi per forza dovrà mangiare di meno, perché poi più di quello di cibo non ci entrerà nello stomaco. La problematica qual è? È quella che, mentre col bendaggio gastrico possiamo giocare con il paziente, tra virgolette, possiamo aiutare il paziente in questo lungo percorso che è la riabilitazione, un pieno reinserimento sociale, una riabilitazione di tipo psicologico-nutrizionale. Nella slive gastretomi noi obblighiamo il paziente a seguire un tipo di dieta. Quindi il paziente deve capire anticipatamente a cosa va incontro. Nella slive gastretomi c'è il pericolo che se il paziente non rispetta la dieta che noi diamo, questa tubulizzazione prima o poi subisce uno sfiancamento nel tempo. Cioè lo stomaco si riallarga. E nel tempo, a distanza di 3, 4, 5 anni, se il paziente non ha acquisito quel modus vivendi, quel sito di vita nuovo, potremo ritornare alle condizioni prima dell'intervento. Ecco, esatto. Bene. Dottoressa Taus, parlando appunto di intervento, quali possono essere le complicanze postchirurgiche? Beh, le complicanze postchirurgiche sono di due ordini, possiamo dire. Complicanze legate proprio all'intervento, e quelle sono quelle più immediate, sono maggiori se l'intervento di chirurgia è più demolitivo. Mi riferisco quindi alla slive, mi riferisco al bypass, mi riferisco soprattutto agli interventi malassorbitivi, come la diversione biliopancreatica, dove noi escludiamo tratti di intestino molto importanti. Quindi qui abbiamo complicanze di tipo chirurgico, che possono andare da un semplice sanguinamento, dei scienze, fistole, e come pure possiamo avere poi complicanze legate alla tipologia di intervento restrittivo o malassorbitivo. Nei casi di intervento restrittivo, come appunto ha spiegato poc'anzi il professor Nicolai, le complicanze maggiori sono legate al reflusso gastroesofageo a cui questi pazienti possono andare incontro. Questo avviene soprattutto se i pazienti non rispettano, anzi solo se i pazienti non rispettano correttamente la dieta che noi abbiamo proposto. E si tratta appunto di seguire in maniera proprio alla lettera gli insegnamenti riguardanti appunto questa dieta, cioè all'inizio è una dieta cremosa, sono tutte diete ipocaloriche premesso, e il paziente deve capire ancora prima di essere sottoposto all'intervento chirurgico, a cosa andrà incontro, quale sarà la sua alimentazione successivamente l'intervento, e capire perfettamente quali alimenti può assumere e la composizione e la consistenza. In particolare, come ha precedentemente detto il professore, il paziente che viene sottoposto a bendaggio gastrico dovrà seguire una dieta frazionata in più pasti piccoli, perché appunto avete visto che la capacità dello stomaco è molto piccola e quindi dovrà mangiare molto poco ogni volta, soprattutto all'inizio cibi cremosi ma ipocalorici, e non dovrà bere durante il pasto perché si deve bere lontano dai pasti, altrimenti rischiamo di dilatare quella piccola capacità gastrica, tasca gastrica che noi abbiamo creato artificialmente appunto ponendo questo bendaggio, e quindi il rischio poi di pressione a livello dello sfintere esofageo inferiore sarà maggiore, quindi il rischio di reflusso maggiore. E quindi diciamo queste sono le complicanze prevalentemente legate al bendaggio, tant'è che noi nella nostra unità operativa ormai da diverso tempo, avendo una casistica molto ampia e ormai datata, sottoponiamo i pazienti a una serie di accertamenti soprattutto alla gastroscopia, proprio per vedere che non ci siano reflussi a livello esofageo, quindi malattie legate alle esofagite da reflusso. Non a caso il paziente viene sottoposto poi, oltre che a una dieta, anche a una terapia con inibitori della pompa protonica, proprio per inibire la produzione di acidi a livello dello stomaco. Comunque c'è più acidità insomma, diciamo, cioè se più portate ad avere reflusso. Più che altro, esatto, più che altro il paziente deve mangiare in maniera corretta, seguire attentamente ogni... Si segue correttamente la dieta, questo reflusso generalmente non c'è. Ma generalmente non sia anche legato al fatto appunto che noi abbiamo la possibilità di calibrare in maniera diversa poi il nostro bendaggio. Nel caso degli interventi, diciamo, più restrittivi e restrittivi malassorbitivi, che possono andare dalla sleeve, ma anche dal bypass gastrico e la diversione, ovviamente abbiamo, oltre alle complicanze chirurgiche, abbiamo anche complicanze metaboliche e nutrizionali legate al malassorbimento. Trattasi di alterazioni, possiamo avere un malassorbimento di proteine, quindi deficit di sali minerali, di vitamine e di un'anemia per carenza di ferro, malassorbimento di ferro, un'alterazione legata al malassorbimento di calcio e quindi rischio poi di osteoporosi. Non a caso per evitare tutti quei, o comunque cercare di correggere tempestivamente eventuali carenze nutrizionali che si possono verificare, i pazienti devono seguire un follow-up ben strutturato, che prevede appunto, come aveva poc'anzi anticipato, oltre che tutti i controlli nutrizionali e quindi anche esami ematochimici precisi, ma anche esami strumentali come la mineralometria ossea computerizzata per vedere appunto il livello di calcio a livello osseo. Poi per quel che riguarda le GDS, che sarebbe la gastroscopia, per vedere se il paziente è presente esofagiti o malattie da reflusso. E quindi ecografie addominali. Ovviamente tutto questo richiede una compliance, si dice, cioè un'adesione totale da parte del paziente al nostro follow-up, oltre che appunto lo studio del diario alimentare del paziente, che serve proprio per vedere se il paziente ha ben capito tutte le indicazioni da noi date. Volevo aggiungere, come avete anticipato, che anche l'attività fisica è fondamentale per questi pazienti. Essendo grandi obesi non possiamo raccomandare una qualsiasi attività fisica. Quindi fra gli esami che noi consigliamo ai pazienti c'è anche l'ergospirometria, che ci permette di valutare la soglia aerobica del paziente e che in base alla quale noi possiamo poi programmare un'attività fisica che permetta al paziente di raggiungere la frequenza cardiaca alla quale corrisponde poi un'attività fisica in condizioni di sicurezza e che ci garantisca anche un calo ponderale. Bene, ora noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria. Restate con noi, torniamo tra poco sempre con il professor Nicolai e la dottoressa Taos per parlare della grave obesità e la chirurgia bariatrica.